Siamo usciti innanzitutto con la consolazione che ha escluso i licenziamenti. C'è un'atmosfera di preoccupazione ma anche di prudenza laddove si parla di chiusura filiali e comunque di esuberi. Così Fabio Faltoni, segretario provinciale della Fabia, l'indomani dell'incontro tra le organizzazioni sindacali di categoria con i vertici di UbiBanca nel corso del quale è stato presentato l'aggiornamento del piano industriale dopo il closing che ha portato definitivamente l'istituto di credito a retino all'interno del gruppo bergamasco. Comincia così a delinearsi la trattativa sul personale. Esclusa l'ipotesi licenziamenti sarà infatti percorsa la strada dell'esodo volontario. L'amministratore delegato lo ha confermato che vorrà continuare le trattative con i sindacati secondo le logiche che ha sempre seguito Nubi di un rapporto forte, anche feroce in certi casi, ma leale. Si parlerà certamente di proporzionamenti volontari e incentivati ma sono molto preoccupati laddove si sta parlando laddove si sta parlando di esternalizzazioni, outsourcing, cessioni di attività. Victor Massià ha inoltre ridimensionato i numeri di dettaglio al personale. Attualmente si parlerebbe di circa un migliaio di esubri o meglio di costi equivalenti a circa mille dipendenti delle tre banche ponte che in totale hanno 4.800 dipendenti. Per la vera e propria trattativa si dovrà attendere giugno con la consegna della lettera di avvio procedura. Da quel momento le parti avranno 50 giorni di tempo per raggiungere un accordo. Resta alta l'attenzione anche per quanto riguarda i tagli di filiali, 140 in tutto, quelli a rischio. È un numero molto esagerato però anche questo andrà visto territorio per territorio. Non tutti i territori delle tre banche sono identici. Banca Truria per esempio stava già attuando un certo ridimensionamento della propria rete di filiali.